ciao ragazzi benvenuti o bentornati sul mio canale io sono flavia e oggi come avete ovviamente letto dal titolo andiamo a parlare della nuova palette di melissa tani questo è il primo prodotto che melissa lancia con il suo nuovo brand io sono contentissima che sia una palette in quanto i gusti di melissa sono molto vicini a me voi lo sapete io adoro i colori caldi quindi ero super felice è uscita e l'ho acquistata subito senza nemmeno pensarci anche perché diciamo che sono andata molto sulla fiducia seguendo melissa da un po di tempo so che comunque una persona che è molto attenta ai particolari molto precisa quindi mi sono subito fidata e tendomi sempre trovate comunque d'accordo con le sue recensioni dei prodotti quindi diciamo che sono andata davvero lo ho comprata senza nemmeno pensarci sono andata subito sulla fiducia l'ho già aperta ovviamente non potevo aspettare e ho lasciato il pack esterno cioè il box in cui viene inviata per farvi vedere un pochino come funziona anche se sicuramente avrete visto altri video e soprattutto quello di melissa che comunque vi lascio giù nell'info box allora c'era l'adesivo qui che ovviamente ho tagliato e il pacchettino è molto carino piccolino e la cosa bella di questo di questo scatolino è che la palette a parte che c'è il bigliettino questo è il bigliettino la palette è ferma nello scatolino la palette è soft touch quindi super morbida e questo è il pack esterno che scivola la scritta come potete vedere è in rilievo molto minimal molto in stile melissa moderna con un tocco glam quindi il pack è proprio perfetto e adesso vi sparafrascerò perché c'è uno specchione grandissimo col nome in argento e la palette è questa qui l'ultima linea diciamo è formata principalmente da colori caldi più un nero poi al centro ci sono due verdi spettacolari un verde che arriva è uno shimmer molto particolare con una nota oro che è snake poi abbiamo ovviamente brecchi non potevano mettere il nome del suo pagnolino che è un colore di transizione stratificabile poi abbiamo sparkle che è stupendo e qui abbiamo due grigi marble e ice e poi uno shimmer spettacolare che questo è luce pura crystal e poi abbiamo bevis che diciamo è un colore più panna crema per andare a sfumare meglio colori di transizione o comunque magari mischiato a un colore più scuro per renderlo più chiaro secondo me questa è una palette super completa per quanto riguarda comunque look non solo nude perché sì ci sono marroncini però c'è anche un verde molto particolare e i grigi diciamo che questa è una palette che io metto di fare smuoki trucchi un pochino più leggeri anche portabili di giorno e look un poco più particolari di sera però sempre sullo stile molto glam quindi niente ripazzerello però è comunque una palette dai toni molto particolari secondo me come vedete con la base già fatta perché? perché andremo a fare un look con la palette che io ho già swatchato e però non ho ancora provato sugli occhi quindi prime impressioni insieme per i prodotti che ho utilizzato per la base vi lascio ovviamente tutto nell'info box anche se non ci sono novità per quanto riguarda i prodotti quindi andiamo avanti con i pennelli vado a utilizzare quasi tutto il set di Morphe di James Charles che sono ad ora i miei preferiti e direi di iniziare a truccarci anche se non so assolutamente cosa utilizzare perché sono tutti colori stupendi e ho qualche difficoltà a scegliere davvero allora facciamo così vi farò un look qui per youtube perché non so proprio cosa utilizzare e poi su instagram utilizzerò altri colori quindi farò più di un look altrimenti non mi riesco a decidere qui utilizzerò un pochino i verdi da utilizziamo snake e olive vado a prendere il m506 di morphe che è un pennello un pochino a penna più ampia e vado a prendere brecchi e inizio a fare una leggera transizione sono leggermente polverosi però voi come sapete a me personalmente non da fastidio a me interessa la pigmentazione più che la polverosità anche perché ok come base occhi mi stavo dimenticando vado ad utilizzare questo di anastasia perché non voglio utilizzare la pi luigi in quanto voglio che vedere proprio come lavorano i ombretti però voglio comunque darci un grip vado con brecchi nella transizione come vi ho detto prima brecchi è un colore assolutamente costruibile quindi potete aggiungere colore e come potete vedere diventa man mano più scura io non voglio che sia molto molto pigmento cioè troppo accentuato perché voglio davvero una leggera transizione definirei brecchi un colore super nude quindi non ha né un sottotano troppo freddo né troppo caldo e direi che come transizione vado a vero bene sia con i colori caldi che con i colori freddi della palette quindi ottima scelta per un colore di transizione che molto spesso i marroni di transizione sono sempre troppo caldi un po o troppo freddi non c'è mai quella via di mezzo che permette di utilizzare un colore di transizione diciamo con tutti i sottotoni e questo è antipatico perché magari abbiamo delle palette complete però dobbiamo andare a prendere magari transizione da un'altra palette che è un po scomodo soprattutto se dobbiamo portare dobbiamo lavorare fare un lavoro fuori dobbiamo portare più palette vado a sfumare meglio cioè ad ampliare la mia sfumatura con la m433 di morphe che è questo pennello super ampio e prendo un po di bevis che è questo panna questo qui e vado ad ampliare un pochino vado a sfumare meglio i bordi di brecchi ma devo dire che i colori si amalgamano davvero bene tra di loro cioè almeno brecchi e bevis e si sfumano super super velocemente senza nessun tipo di fatica o senza insistere più di tanto si sfumano davvero da soli ok adesso vado a prendere con il pennello m321 proprio questo a penna vado a prendere olive e lo vado a mettere sotto la mia transizione quindi sotto brecchi perché è una sorta di ennesima transizione devo dire che questo colore è davvero bellissimo e davvero pigmentato e unito a brecchi da davvero un sottotono quasi verde militare colore che io ad esempio non avevo in collezione avevo comunque dei verdi un pochino più accesi o più scuri ma questo tipo questo punto di verde no con il pennellino di prima ancora sporco di brecchi vado a sfumare un pochino i bordi di olive e lo porto un pochino verso l'esterno fatto questo vado a prendere un pennellino un pochino più vado a prendere un pennellino da cut crease che è il numero M124 di Morphe lo adatto io e prendo giusto un poco poco di primer occhi di Anastasia una goccina e vado a tagliare giusto un pochino la crease perché voglio che Snake si veda bene non faccio nulla di troppo preciso perché tanto vado a mettere lo shimmer lo voglio mettere in maniera più diffusa ok adesso vado a prendere Snake che sarebbe questo verde con delle belle sensore molto particolari quindi vado col dito e lo applico sulla crease davvero bellissimo adesso come sempre andiamo a provare anche con il pennellino perché voglio vedere se funziona e prendo il numero M508 sempre di Morphe questi sono tutti i pennelli del set di James Charles tranne qualcuno che ho acquistato separatamente però vi lasso sia il video di Morphe qui sopra dove vi ho parlato dei vari prodotti che ho acquistato e sul mio profilo Instagram nella sezione GTV troverete un video dedicato proprio ai pennelli di Morphe quindi con una recensione di tutti i pennelli mio profilo Instagram e tutti i social li trovate intanto qui che vagano oppure nell'info box si preleva tranquillamente anche con il pennellino adesso questo è il risultato voglio andare giusto a scurire un pochino la parte esterna del mio occhio quindi l'angolo esterno e vado a prendere uno di quei pennellini di 8 milioni di anni fa e questo è dell'Avon ed è un pennellino fantastico perché è davvero piccolo e preciso e vado a scurire l'angolo esterno con brown che è questo marrone abbastanza freddo non voglio andare direttamente con l'ola perché il nero non lo voglio mettere su questo make up ci vedo meglio il marrone e ovviamente sfumo tutto con olive quindi sfumo i bordi del marrone cioè di brown con olive e viene fuori mischiando brown e olive viene fuori una sorta di verde che vira molto a un senape cioè un sottotono quasi giallo quasi senape molto molto carini è bello poi sperimentare con i colori creandone nuovi magari sfumandoli insieme soprattutto quando i colori sono così facilmente sfumabili e si uniscono così bene tra di loro nonostante prelevando i colori risultino un pochino polverosi sulla cialdina devo dire che ho già fatto la base non ho avuto fallout di colore giusto il fallout di snake ma ci sono brillantini quindi mi pare anche normale questa cosa però non ho avuto fallout a livello di colori sotto alla parte cioè la parte di sotto dell'occhio vado giusto a mettere pochissimo brown con il pennellino che ho utilizzato per fare l'angolo esterno giusto una punta solo nella parte esterna perché voi sapete che ho l'occhio molto piccolino e quindi se vado a portare il colore fino all'interno cioè la parte all'angolo interno vado a chiudere ancora di più lo sguardo però mi piace che comunque anche sotto sia un po' più intensificato quindi vado a fare giusto questa parte qui poi prendo olive cioè prendo il pennello sempre sporco non lo vado ad intingere di nuovo nella palette e lo passo giusto sotto brown diciamo per continuare un pochino la sfumatura dell'angolo esterno nell'angolo interno del mio occhietto vado a mettere con un pennello piccolino sempre di quelli che di due milioni di anni fa vado a mettere i cristal ovviamente non potevano utilizzare i cristal proviamo col pennello bellissimo lo metto sia nell'angolo interno del mio occhio e lo vado a mettere anche un pochino sotto l'arcata sopraccigliare e lo vado a mettere anche sotto l'osso del sopracciglio qui perché questo ombretto è troppo troppo bello mi piace mi piace mi piace ok ragazzi io vado a fare l'altro occhio fuori camera ci rivediamo dopo qui e impressioni sulla palette ovviamente eccomi tornata questo è il risultato finale io sono super contenta questo make up mi piace tantissimo ho utilizzato come vi ho fatto vedere quando ho fatto l'occhio in camera ho utilizzato breki balis poi ho utilizzato snake e olive e un po' di brown e ovviamente crystal per l'angolo interno e le parti dell'illuminare prime impressioni sulla palette allora i colori che ho utilizzato sono quindi presumo che essendo tutti quanti i colori più o meno delle stesse formulazioni quindi i matte sono tutti super matte e diciamo che le formulazioni sono quelle io ovviamente vi parlo dei colori che ho utilizzato perché giusto che cos'è così comunque i colori che ho utilizzato i matte sono super pigmentati subito e sfumabili cioè si sfumano davvero da soli avete visto non farete assolutamente fatica a sfumare questi colori perché pazzeschi e gli shimmer io ho utilizzato solo Snake e Crystal Snake come potete vedere è super luminoso è super pigmentato sia applicato con le dita che con il pennello ovviamente ho utilizzato un pennello piatto adatto che è il numero M508 di Morphe questo piccolino piatto ho fatto una leggera leggera cut crease con il primer per occhi di Anastasia che non è super mega come ad esempio Lappi Luigi Lappi Luiz e poi Bayliss e Breki sono fantastici come transizione Breki e Bayliss per sfumare diciamo i bordi è un crema bellissimo e sono due colori che ho utilizzato insieme a Olive e hanno creato un terzo colore che va più questo qua proprio verde oliva come potete vedere però ho mischiato con Breki vi faccio vedere subito viene fuori un bellissimo verde quasi militare davvero fantastico e un bellissimo colore ovviamente con le palette si gioca anche così mischiando i colori creando tonalità nuove poi Crystal ve lo voglio giusto fate vedere perché davvero super mega cioè è davvero luce io l'ho utilizzato per illuminare l'angolo interno l'arca da sopraccigliare è davvero fantastico quindi per ora devo dire che i colori che ho utilizzato sulla palette mi sono piaciuti tutti anche Brown non ve ne ho parlato Brown l'ho utilizzato per intensificare l'angolo esterno e non ho voluto mettere Lola perché con questo makeup non ci vedevo nero ma più marrone scuro e non sono stata delusa perché ha davvero intensificato tanto l'angolo esterno un bellissimo marrone freddo che è perfetto appunto per intensificare i look senza andare diciamo a renderli troppo drammatici anche come l'aner sicuramente l'ha fatto vedere anche Melissa in uno dei suoi video quindi sono contenta di aver acquistato questa palette assolutamente sì perché comunque sono tutti colori che mi piacciono tantissimo e stranamente cioè non ho voluto fare un look subito caldo utilizzando la parte calda perché voi sapete che i colori caldi sono diciamo la mia comfort zone quindi ho evitato di utilizzare marroni e beom che è bellissimo e sarà sicuramente il mio preferito della palette perché è davvero stupendo cioè mi ha rubato il cuore ha davvero delle delle sfumature fantastiche e quindi ho deciso di utilizzare colori un po' diversi dal solito di verde mi sono truccata davvero pochissimo e quindi ho deciso di dare spazio anche perché snake e olive sono davvero due colori fantastici io comunque sicuramente farò altri look con questa palette e vi rimando al mio instagram in modo da poter vedere gli swatches perché vi lascerò lì gli swatches e qualche altro look sicuramente e le foto dei close up di questo makeup come sempre io vi invito a seguirmi sui miei social dove sono un po' più attiva ovvero instagram facebook e tiktok li troverete contenuti anche riguardante la serendipity di Melissa Pani oltre a tante altre curiosità e se vogliamo rivederci anche qui sul tubo dovete iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da rimanere sempre aggiornati su tutti i video io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao